Siamo stufi di essere presi in giro, glielo dico sinceramente, sono nervosa, veramente sono nervosa, non ce la facciamo più, dobbiamo buttarci sotto il crema, e come dobbiamo fare? Io devo essere aiutata anche, mio figlio ha lavorato venti anni fino a qui e adesso ha fallito, nessuno lo aiuta e si può andare avanti in queste condizioni, le tasse, tutto il resto, e ci rimane solo che è suicidarsi, non va bene, non va bene suicidarsi, no non va bene, siamo tutte saurite da gente, siamo tutte saurite, non ce ne può più, basta, non ce la facciamo più, no sono nervosa.